A proda anche alla Spezia la Speed Week, l'iniziativa regionale per accreditarsi al sistema pubblico di identità digitale. Lo sportello rimarrà aperto fino all'8 novembre nel Salone dell'Anagrafe del Comune della Spezia dalle 10 alle 17.30 dove saranno a disposizione gli operatori per aiutare tutti i cittadini interessati a registrarsi al sistema e ottenere così le proprie credenziali personali in modo semplice e veloce. Ci sono molti servizi della pubblica amministrazione ormai accessibili online e attraverso le credenziali Speed che è l'identità digitale unica. Quindi i cittadini possono venire qua a registrarsi con il riconoscimento Devisu che è una pratica più semplice e più veloce rispetto al riconoscimento che possono fare sempre e comunque anche a casa attraverso il sito di Agid. In questo caso noi diamo la possibilità ai cittadini di attivare questo riconoscimento Devisu in 20 minuti più o meno che è il tempo che ci vuole per gestire la pratica e quindi i cittadini potranno avere queste credenziali uniche per accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione online. Possono essere servizi comunali, servizi regionali, ad esempio come servizio regionale mi viene in mente il bollo auto, il pagamento quindi online del bollo oppure anche servizi a livello nazionale, quasi tutti ormai i servizi dell'Inps, molti servizi anche dell'università. Per registrarsi basterà fornire un indirizzo e-mail valido, un numero di cellulare e avere con sé un documento di identità valido e la tessera sanitaria. Speriamo che le persone conoscano e sappiano che c'è questo tipo di attività e che vengano a trovarci. Siamo aperti fino a venerdì dalle 10 alle 17.30 con orario continuato ed è un'occasione per farlo in maniera ancora più semplice rispetto a come si può fare online. Quindi cogliete l'occasione, anche se oggi non è una giornata bellissima dopo l'allerta meteo, però speriamo nei prossimi giorni che ci sia un maggior afflusso.